Ciao a tutti, benvenuti nel canale, in questo video vi spiegherò come completare la sfida di fare danno agli squali bottino a sabbie sudate. Raggiungete sabbie sudate, eccola qua, la località, procuratevi un'arma e sparate agli squali come se non ci fosse un domani. Però attenzione perché gli squali vi verranno contro e cercheranno di farvi danno. Saliranno anche sulla superficie, ecco come potete vedere, fanno veramente male. Quindi niente, raggiungete questa località, sparate agli squali per completare la sfida.